A distanza di alcuni mesi dalla partita di campionato torna un nuovo derby tra Teramo e Giulianova. La finalissima di Coppa Italia di eccellenza in programma inizialmente il 31 gennaio è stata anticipata a mercoledì 17 gennaio. Resta però da definire ancora l'orario. Come già annunciato la partita si svolgerà allo stadio Bonolis a piano d'accio a Teramo. Sarà un match a porta aperte e senza limitazioni nonostante le preoccupazioni iniziali come già avvenuta per la partita di campionato. Una decisione presa al termine della riunione per l'ordine a sicurezza pubblica convocata ad hoc dal prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo. Non vogliamo limitazioni, anzi vogliamo che sia una grande festa dello sport, una festa del calcio. Due squadre che noi siamo contenti si siano qualificate per la finale di Coppa Italia e come ho detto pubblicamente spero di rivederle entrambe in Serie D l'anno prossimo, che vengono entrambe promosse. È una finale di Coppa Italia, quindi una delle due squadre vincerà e l'altra no, quindi questa è la differenza tecnica rispetto a una partita di campionato. E c'è un'altra differenza che si gioca a Teramo ma è in campo neutro, quindi non c'è una squadra che gioca in casa e l'altra che è una squadra ospitante. I biglietti saranno 2000 per ciascuna società e ora nei prossimi giorni verranno definiti anche in sede di tavolo tecnico in questura i dettagli sulla vendita e le prescrizioni tecniche che ci vorranno per una partita comunque delicata, perché comunque la rivalità tra le due tifoserie è arcinota e comunque in palio c'è un trofeo. In vista della partita si sta pianificando l'organizzazione degli ingressi in modo da evitare il contatto tra le due tifoserie. Non è ancora ufficiale l'orario dell'inizio partita? No, stanno definendo ora le due società che hanno trovato questo accordo intanto per giocarlo a Teramo, con l'avallo ovviamente della Lega e ora definiranno l'orario. È mercoledì, non abbiamo problemi quando ci gestiremo l'orario indipendentemente, bisogna considerare che potrebbe a questo giro esserci la possibilità di supplementare i calci di rigore, che quindi ovviamente allunga l'eventuale conclusione della partita. Controlli massimi? Controlli massimi ovviamente, noi dobbiamo certamente non penalizzare appunto chi va allo stadio per vedere la partita, dobbiamo prevenire la mescolanza delle due tifoserie, perché purtroppo la madre dei cretini è sempre incinta, ma questo non riguarda solo le tifoserie del Teramo e Giulianova, questo è un problema che va da Bolzano a Caltanissetta.